14 luglio, festa nazionale in Francia e festa anche qui a Santa Croce in Gerusalemme per la rassegna per il cinema italiano perché dopo la serata dei diplomi che è andata in scena ieri sera comincia la settimana in onore dei fratelli taviani. La manifestazione dedica gli ultimi giorni di programmazione a ripercorrere la carriera di questi due grandi registi con molti ospiti, con molti loro collaboratori, a cominciare dal grande montatore Roberto Perpignani. Buonasera. Migliacco, che cosa devo dire? No, devi dire solo buonasera. Buonasera. E poi adesso ti faccio la domanda. Va bene, è tutto molto informale, tranquillo. Allora Roberto, quando hai incontrato i due fratelli? Raccontaci come è nata la collaborazione con loro. Sono stato convocato praticamente in produzione da Giuliani De Negri che aveva il compito di attrarmi nel loro luogo rappresentativo della loro progettualità cinematografica, ovvero produttiva, e ho incontrato nello studio di Giuliani Paolo e Vittorio che dovevano, stavano per montare sotto il segno dello scorpione. Il film era l'estate del 1968, dunque sono 50 anni fa, esattamente 50 anni fa. Abbiamo con molta passione affrontato un film che è tra i più anomali del cinema e tra quelli che io ho fatto, nonostante fossi dedito al cinema non convenzionale. E mi sono innamorato di quel film e del lavoro che avrei dovuto fare, che avrei fatto e che poi più tardi si è sviluppato in una collaborazione di 50 anni. quello per me è stato veramente il battesimo del fuoco per la collaborazione tra noi e abbiamo scoperto, io ho scoperto, ma anche loro penso, che il modo di lavorare al montaggio con due persone come loro e con una persona effettivamente che si lascia coinvolgere come me dava dei percorsi e dei frutti tutt'altro non prevedibili, perché ci alimentavamo a vicenda. A ripensare al loro cinema si ha la sensazione che quando tu hai cominciato con loro sotto il segno dello scorpione, poi i film alla fine degli anni 60 e gli anni 70 loro fossero effettivamente immersi nel cinema di quell'epoca, che era un cinema che sperimentava moltissimo. poi si ha, magari però è un errore, poi si ha la sensazione che invece negli anni siano diventati due cineasti in qualche misura più classici, con un senso della narrazione più classico anche le cose che hanno fatto per la televisione, come se da un cinema più sperimentale si sia arrivati alla narrazione fluviale di Tolstoi, ecco, tanto per citare un artista che so che entrambi amano moltissimo. Anche tu da montatore hai avuto questa sensazione? Allora, loro non erano solo linguisticamente impegnati, ma politicamente impegnati ovvero civilmente impegnati. E questa era la cosa che mi corrispondeva totalmente e che all'impegno civile e dunque di idee dovesse, potesse, ma soprattutto dovesse corrispondere una elaborazione caratterizzata da una ricerca che doveva creare il senso di quello che si stava rappresentando sottraendolo alla narrazione più più fluida, più naturalistica, se ne vogliamo, più descrittiva e ci siamo trovati di fronte a delle forme di ricerca e dosare fortissima tanto che il montaggio risentiva come li ha cosa che li ha caratterizzati per tanto tempo direi per tutta la vita ma comunque in modo particolarissimo in quel periodo dove per esempio loro avevano bisogno di lavorare sui campi ampi per cercare il senso dell'ampiezza del valore del senso di quello che raccontavano e poi i dettagli delle azioni dei visi e in particolare a volte proprio dell'andare ad un ravvicinato talmente inusuale che diventava simbolico simbolico senza essere programmaticamente però in qualche modo teorizzabile ma era un modo veramente molto molto accentuato molto forte e molto creduto tanto da creare dei veri e propri salti in avanti e salti indietro e questa cosa mi appassionava da morire perché era il cinema della significanza concettuale sovietica un'ultima cosa Roberto sappiamo io qualche volta sono stato anche sui loro set da giornalista li ho visti lavorare so come facevano so che facevano un ciac per uno si alternavano hanno sempre fatto così anche nelle interviste io non ho mai capito come facessero ma alla prima domanda c'era sempre un attimo di sospensione poi uno partiva e da quel punto in poi si dividevano anche le domande non li ho mai visti entrare in contraddizione ma sono curioso di sapere com'era il questo tipo di rapporto anche con te anche in Moviola stavano tutti e due oppure ti lasciavano anche lavorare da solo e poi vedevano quello che tu avevi fatto no la cosa molto bella è che il lavoro con loro era un lavoro di ricerca veramente integrata veramente di di messa a fuoco dello sguardo di ciò che noi dovevamo inseguire perseguire e e infine realizzare era un qualche cosa di di estremamente in inglese si dice sharp molto esatto e dunque il il loro quando si dice appunto che sul set loro erano si alternavano senza contraddizione come dici anche nella in Moviola si permettevano il dibattito che era un dibattito che risentiva molto del fatto che loro avevano una ricerca a monte quando ideavano e scrivevano scrivevano spesso camminando cioè diciamo progettavano la sceneggiatura partendo da casa dell'uno o dell'altro e si facevano delle passeggiate lunghissime che davano con un passo assolutamente identico tra l'uno e l'altro davano però il senso della dialettica della creatività dell'invenzione dell'integrazione reciproca eccetera eccetera quando arrivavano sul set si erano progettati però l'inquadratura si erano detti questa la fai tu la prossima più stretta la faccio io e via dicendo arrivavano in Moviola si risdoppiavano dando prova appunto di una fertilissima diciamo convergenza di sguardi ma anche nelle diversità e la cosa molto bella è che ce lo siamo confessato spesso che io diventavo spesso l'arbitro diventavo il punto di verifica di quello che loro stavano dicendo per assurdo fino all'ultimo film che abbiamo fatto insieme dove Vittorio veniva per il montaggio fino a che loro si sono messi un giorno a discutere e e io poi alla fine ho dovuto dire un momento fermatevi perché state dicendo la stessa cosa perché la dicevano con tale passione che la caratterizzavano come propria ed era molto bello perché perché questa partecipazione era era un qualche cosa che metteva tutti noi in condizione di andare a cercare sempre qualche cosa di ulteriore per esempio era tutto ben previsto anche il montaggio benissimo poi c'era una delle variabili allora se ne provava una se ne provava un'altra un'altra ancora alla fine avevamo detto questa è quella buona e magari me veniva in mente di dire mi lasciate fare una prova e io facevo questa cosa con la pellicola non si facevano le varianti si doveva smontare quello che avevi fatto la facevo e si diceva spesso ecco era questo che cercavamo ecco questa cosa ha portato avanti la nostra collaborazione come se fosse diventata una cosa naturale e questa cosa mi ha dato appunto per una vita intera perché 50 anni sono una vita di lavoro mi ha arricchito mi ha dato ragioni motivazioni un giorno Paolo quando io ho presentato un libro con dei miei scritti alla Casa del Cinema sono intervenuti tutti e due sono venuti generosamente carini Paolo è intervenuto e ha detto quando con Roberto facciamo una sequenza che riesce noi e ci sentiamo soddisfatti io e Vittorio ci fumiamo una sigaretta Roberto ci scrive un pezzo perché perché mi veniva fuori un la cosa molto bella che posso dire con loro che ho imparato il loro rigore civico proprio oltre pensiamo al fatto che i film del fine degli anni degli anni 60 erano premonitori del 68 sotto il segno del scorpione è un film su 68 scritto anni prima Allons and Fan è un film sul post 68 scritto già a cavallo ed è una cosa che che è impressionante perché eravamo lì in piena militanza poi quando quando tu dici che il loro cinema ha preso un andamento diverso a mio avviso è stato anche colpa della committenza nella quale però televisiva che diceva che noi avevamo a che fare con un'audience che era più indifferenziata non era un pubblico diciamo che ci selezionava e ci individuava come opportuni per la propria diciamo il dialogo con su quei temi però la cosa quando è nata è nata dopo Allons and Fan Padre Padrone è già un film che nasce da un romanzo però è per la televisione dovranno essere due puntate per la televisione e invece Padre Padrone comunque si portava presso tutti i bisogni di essere fortemente evocativo e creativo inventivo eccetera eccetera fino a creare appunto una identificazione passionale con l'invenzione di quel romanzo quel racconto che era di un personaggio che era già fuori dai canoni più più semplici allora se pensiamo però che in quella epoca successiva arriva la notte di San Lorenzo che è invece una storia personale è una storia personale che sapeva interpretare la partecipazione e la collocazione nella storia collettiva di ognuno di noi di ognuno di quelli che avevano vissuto ma loro la rivendicano come una storia personale Galvano è il loro papà loro sono dentro la storia pienamente dunque hanno veramente poi più tardi è venuto Crioti è venuto Dostoi ma già c'è una cosa c'è un segnale di Dostoevsky nel San Michele Lungardo dunque però con una reinvenzione strutturale proprio del racconto della prigione del prima della prigione e poi del dopo Grazie Roberto Perpignani l'unico uomo che ha visto discutere i fratelli taviani grazie di questo ricordo